Buon pomeriggio a tutti e a tutte da Andrea Cartotto, un videocorso che realizzo volentieri a grande richiesta. Infatti molti colleghi e colleghe, ma anche alunni, che avevano consultati i miei precedenti videocorsi sulle risorse Adobe Spark Page e Adobe Spark Video, nel periodo recentissimo mi hanno chiesto come possiamo accedere ancora a queste risorse, ma esistono ancora, sono scomparse perché cercando ed accedendo proprio con quei nomi non le troviamo. Bene, nella realtà la famiglia Adobe, che è composta da numerose, lo ricordo, applicazioni web, è ora in realtà facente parte di un'unica risorsa al cui nome è Adobe Creative Cloud Express, per gli amici Adobe CCE. Allora, il logo è cambiato, ed è quello che potete osservare qui illuminato dal mio puntatore, questa sorta di simbolo dell'infinito, dai colori arcobaleno. Anche la app che noi abbiamo per dispositivi mobili ha quel logo. Cerchiamo come parola chiave Adobe dai principali stores dei nostri dispositivi mobili. Ma soprattutto, sito di riferimento, ora accediamo da adobe.com, ve lo ricordo si scrive adobe, si legge adobe, slash it slash express. A quel punto andremo a cliccare su accedi o iscriviti se è la prima volta che utilizziamo questa risorsa, questa famiglia di risorse. Come potete vedere andiamo a cliccare su continua con google ora e ci verrà richiesto di inserire il nostro account, che può essere dunque o un nostro account personale, magari per i docenti che lavorino su diversi istituti, o più verosimilmente un account istituzionale scolastico che ci garantirà sempre l'accesso. Ora notate che proprio di questi tempi il logo riprende i colori dell'Ucraina e ci troveremo davanti a questo cruscotto, questa nostra area di lavoro. Ebbene, vi dicevo che la denominazione adobe, spark page e spark video non esiste più, perché in realtà tutto è sotto un grande più. Niente paura, nulla è scomparso, anzi le funzionalità sono per tal'universi anche più ampie. Guardate bene, abbiamo un menu di sinistra e vi mostro che in realtà per inquadrare un pochino meglio quello che stiamo per fare. Allora, la funzione volantino ad esempio è in realtà la nuova denominazione di adobe spark post. La funzione pagina web è adobe spark page, la funzione video è adobe spark video. A quel punto le funzionalità interne delle singole applicazioni non sono cambiate ed anzi, vi esorto a consultare i miei videocorsi qui sul canale Trainer Andrea, quello dedicato a spark page, quello dedicato a spark video. Spark video, tra parentesi, è la risorsa ideale per lo storytelling e, come in diversi casi, ecco mi viene richiesto, la risorsa forse più semplice per registrare la nostra voce ed utilizzarla come voce narrante durante la presentazione di contenuti. In questo caso, come vedete, classico percorso da storytelling, qui dobbiamo dare un titolo, il nostro titolo potrebbe essere il verismo, clicco su avanti, scelgo uno dei template, cioè uno dei modelli guida per iniziare la mia attività, ma ripeto, la cosa importante che dobbiamo trarre da questo video è che adobe spark page post e video non sono scomparse che ora dobbiamo ricercare la risorsa adobe creative cloud express ed ecco che saremo dinnanzi alla interfaccia, cioè alla visualizzazione con comandi e pulsanti che siamo stati abituati nel tempo ad utilizzare e se non eravate abituati a farlo, credetemi, per la didattica digitale integrata è tempo di servirci di questa suite, cioè di questo insieme di applicazioni targate adobe. Ricordo brevemente perché tali funzionalità sono peculiari e fanno parte di tutta la famiglia adobe creative cloud express che l'occhio corrisponde al pulsante di anteprima, il pulsante condividi ci consente di inviare in forma di link il nostro progetto, il pulsante scarica, in questo caso, nel caso di adobe video è molto interessante, scarica in formato mp4 senza filigrana alcuna, senza firme, in maniera impropria, il nostro video, peraltro dalla dimensione assolutamente ragionevole, il pulsante con l'icona del mezzo boost e il più ci permette di far lavorare, in questo caso, anche i nostri alunni in modalità collaborativa e cooperativa. Dunque niente paura, possiamo continuare ad utilizzare quelle che sono sicuramente tra le risorse più efficaci e trasversali in questo momento per la scuola italiana e per ogni ordine grado di istruzione. Ciao, vi do sin d'ora appuntamento al prossimo videocorso. Ancora un saluto a tutti e a tutte da Andrea Cartotto.